Ho visto un uomo in platea, una presenza che mi ha folgorato. Ci sto impazzendo e non riesco a capire il perché. C'è una strana alchimia che ci lega. Quel particolare della X mi ha ricordato qualcosa. Quanto conosci quell'uomo? Ci hanno convocati a Parigi per un nuovo musico. Tutta la compagnia partirà tra due giorni. È tutto così perfetto da sembrare incredibile. La cosa più strana è che non so chi sia. Ed io che ho sempre pensato di avere il primato assoluto in fatto di esperienze strampalate con l'altro sesso. Questa è l'occasione che aspettiamo tutti da una vita. La nostra svolta decisiva. Buonasera principessa. Mi hai pensato? Tu? Sei tu? A quanto pare la mia amica ha fatto colpo. Greta sicuramente ha qualcosa da nascondere. Ho bisogno del parere di una persona sincera. Come te. Il destino non basta. Per l'amore serve molto altro. Maledizione Amanda, maledizione. Perché mi sento così? Perché mi sento così? Cosa mi hai fatto? So tutto di te. Conosco i tuoi desideri. Le tue ambizioni. Le tue paure. Mi hai lasciato andare. Devi dirmi qualcosa che non so. Hai dei segreti per caso? Basta con le domande. Quando sarà il tempo, le risposte arriveranno. Finalmente sei arrivata. Sei bellissima. Perché usi ancora quella maschera? Chi vive nell'ombra si disabitua alla luce. Adesso guardami. Sono qui. E sono tua. Allora. Balla per me. Balla per me.